...delicatissimo e soprattutto per toccare con mano quella che è la delicata situazione economica del territorio. Assolutamente sì, noi dobbiamo dare a questa parte in Italia una politica industriale, Brindisi come Taranto ha una vocazione industriale, oltre a una vocazione turistica ovviamente, c'è un grande porto che deve essere valorizzato, già ne abbiamo parlato in più occasioni, venne in visita, quando ero presente al Parlamento, al Parlamento abbiamo cercato di lavorare per valorizzarlo, come va valorizzato e tutelato un comparto industriale, pensiamo all'aeronautica come anche altri settori che rischiano di soffrire, ma quando manca una vera politica industriale, sia da parte dell'organizzazione regionale, sia da parte dello Stato è difficile che ci possa essere sviluppo dell'industria, serve che cosa fare? Giustizia civile più grande, burocrazia più veloce, riduzione drastica del volume fiscale, noi proponiamo il totale annullamento del volume fiscale per chi assume giovani fino a 30 anni, invece di scelterare i soldi, un reddice di aminanzi che non ha prodotto alcun effetto lavorativo, meglio investire su chi crea lavoro, così un imprenditore invece di assumere un giovane assumere il volume fiscale.